Sei ferito? Parlami! No, credo di no. Mio Dio, non volevo che finisse così. Ti avrebbero ucciso, Cheolbert. Non avevi scelta. Ora non muoverti. Tornerò. Dov'è il tuo re, Sassone? Dimmi dove! Dio, padre, concedimi la salvezza. Come fai il loro Dio a trovare il tempo per rispondere a tutte queste preghiere? Sei un'incosciente, Ivar. Cheolbert poteva morire. Chi sono io per impedire a un ragazzo di farsi crescere un paio di palle? Non cercare scuse. E non sei divertente. No. Non è stato Ivar a mandarmi. L'ho deciso Ivo. Sii prudente, ragazzo. Finché tuo padre non sarà re, sarai un nemico della mercia, non un suo campione. Hai capito? Sì, ho capito. Bene. Ora torna a Repton, finché non saremo noi a chiamarti. Non resti un po', morso di lupo? Il re non c'è, ma abbiamo di che depredare. Lady Hattelsuite, la moglie di Burgred, è a Templebro. Cercherò di scoprire cosa sa. Meglio essere molto caldi. Prendete tutto! Prendete tutto! Prendete tutto!